allora intanto grazie a tutti per essere qui e noi siamo il pug romagna siamo un pug che è nato due anni fa dopo un php dev test siamo itineranti cerchiamo di coprire tutto il territorio romagnolo quindi ci spostiamo tra faenza rimini ravenna forlì cesena e cerchiamo speaker un po da tutte queste queste zone abbiamo avuto fortunatamente anche degli ospiti da fuori regione e facciamo un incontro al mese tendenzialmente il primo martedì del mese e sul gruppo meetup dove vi siete iscritti per poter partecipare a questa call ci sono tutti gli eventi che abbiamo in programma e tutte le informazioni per raggiungerci abbiamo un account su github che è linkato su meetup scusate per tutti questi nomi e su github tramite issue facciamo le proposte dei talk votiamo quelli presenti e come organizzatori cerchiamo di selezionare quelli più votati quelli più interessanti e schedularli per le per le prossime date quindi se avete un argomento che volete proporre se volete essere speaker di un argomento se semplicemente volete parlare di un argomento e lo speaker ci occupiamo noi di trovarlo github è il posto giusto dove fare queste proposte sempre su github cerchiamo di pubblicare tutte il materiale relativo agli eventi passati quindi dovreste trovare le slide per esempio del talk del mese scorso che ha fatto giuseppe morelli che è anche lui oggi qua con noi e ringraziamo oggi parliamo di swool con manuel come dicevo questo sarà un un evento registrato lo troverete sul canale del grusp tra qualche giorno sul canale youtube del grusp tra qualche giorno e quindi io non perdo altro tempo vi ricordo di fare le domande su slide o vi rincollo il link in chat subito e faccio parlare direttamente manuel grazie grazie nicol ringrazio tutti gli organizzatori per avermi invitato questa sera e iniziamo subito swolo review per chi non mi conoscesse sono kea e qualcuno mi chiama anche manuel baldassarri sono co-founder di flowing e programmatore php da quando il converse 64 ha smesso di funzionare per poter apprezzare appieno quello che vedremo dopo dovremmo parlare della storia e della teoria che permetta swool di funzionare quindi dovremmo iniziare con un po di storia sul computer multitasking quindi i primi antenati leo terzo nel 61 oppure nella cooperative multitasking con i primi windows e primi mac preemptive multitasking grande commodore amica ma purtroppo prima è arrivato multix e unix e poi dovremo ancora ancora scavare un pochettino e parlare dovremmo parlare delle principali librerie che implementano event loop e in particolare anche di lib uv che appunto utilizzata da node e poi scaviamo 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 ancora scaviamo ancora arriviamo dovremmo scendere ancora un po di più per parlare di Apple per Linux e quindi KQ per BSD OSX, IOCP per Windows e perché no anche di EventPorts perché sanno eschi che non ha una bella server sana nel garage quindi magari bisognerebbe parlare anche un po di crino di queste cose. Dico dovremmo perché? Perché parafrasando il mio amico Tank a noi è mortale sta roba cioè saltiamo le basi a pie pari tanto lo so che studierete con cura alla fine del talk tutte queste nozioni perché non potete capire a pieno quello che c'è e come funziona suol e cominciamo dalle cose serie la pronuncia ok allora suol suol ci sono tanti modi per chiamarlo però bisogna andare alle basi e quindi bisogna sapere dove è nato suol è nato in cina il dottore cinese e ha creato questo nome con un senso incredibilmente guardando uno dei tanti video su youtube in cinese ho trovato questa chicca e una slide che diceva che Zwool in realtà è stato scelto dall'autore proprio cercando di combinare la parola Zwool con la parola google e quindi è venuto fuori questo questo nome interessantissimo potete vi ho messo il link perché secondo me non mi credete quindi potete andare proprio a vederlo con i vostri occhi e sentire soprattutto che il nome e la pronuncia scusate la pronuncia ufficiale è quella preferita dai romagnoli lo diranno benissimo perché cipolle in romagnolo e cioè vole ok questo è il nome originale chiamatelo come volete questa sera parleremo di lui che cos'è che cos'è Zwool è una semplice e molto cicciotta e estensione php semplice perché perché l'installo come tutte le altre estensioni php non è che sono a configurare server oppure compilare cose particolari niente pecle install Zwool così secco come tutte le altre estensioni php quindi una volta che l'ho installata che cosa ci faccio ci puoi fare tante cose perché le cose principali che ti permette di fare sono event driven quindi ci sono tanti eventi su cui ci possiamo attaccare in funzione di quello che vedremo tutte le varie funzionalità usare coroutine che sono la base di tantissime delle delle librerie che sono sotto il cofano synchronous programming in php spesso non sapendo che lo stiamo facendo quindi anche con un po di aiuto dopodiché abbiamo out of the box pronto all'uso client e server tutti e due di tanti protocolli tcpu dp http 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 2 web socket e quindi possiamo creare in maniera molto facile utilizzare in maniera veramente semplice tutti questi protocolli usando su ipv4 ipv6 unic socket tcpu dp e non dimentichiamoci la sicurezza quindi tutto questo gira già attivamente con il supporto di ssl tls abbiamo ancora fast serializer e anserializer ci sono già in php sì ci sono però questi qui sono ottimizzati e quindi ci permette di avere un boost di performance anche nella serializzazione millisecond a scheduler possiamo abbiamo un timer che possiamo programmare a livello di millisecondo adesso proprio a millisecondo sì non l'ho non ho cronometrato se effettivamente ci sta dentro però diciamo che lui ci dà la possibilità di fare scheduling al millisecondo molto molto interessante demonize fare diventare demone il nostro processo quindi fare detassi dalla tastiera e utilizzarlo come i tanti altri demoni che ci sono nelle nostre nelle nostre macchine ultimo ma non ultimo performance molto alte qui il sito ci racconta che può supportare c mille k cosa vuol dire che può supportare fino a un milione di client contemporanei come dice erico simuel ripeto può supportare un milione di client contemporanei ripeto supportare un milione di client contemporanei allora non so morfeus se è quello però sulla carta diciamo che i numeri ci sono ok ma in soldoni che cosa ci possiamo fare ci possiamo scrivere chat web chat bot mqtt broker sì perché tra i vari protocolli che supporta c'è anche il protocollo mqtt già nelle librerie out of the box poi possiamo fare dei servizi di push notification dei web monitor o comunque tutti i suoi servizi che hanno bisogno di di avere un'interazione continua tra client e server possiamo velocizzare aumentare un po le performance e in alcuni casi anche di molto dei di alcuni framework tra i più famosi sull'aravel è stato fatto molto lavoro su symphony c'è qualcosa è accennato qualcosa e anche sugli altri si trova si trova qualcosa soprattutto per i perché comunque utilizzato molto in in asia possiamo fare sistemi di cron ovviamente come abbiamo visto con il nostro componente timer e poi beck and for front end o comunque se non utilizziamo questo questo pattern comunque tutto quello che serve per fare aggregati quindi posso fare delle api che aggregano che vanno a prendere da più sorgenti di dati da più sorgenti quindi vari siti vari api vari database eccetera collezionano i dati e poi lo servono in un'unica in un unico respons in questo modo possiamo utilizzare la potenza della della sincronicità sulla io e ottimizzare di molto questi processi dopo di che possiamo anche fare client e proxy su php fpm questa è una novità di tre giorni fa mi sembra che l'ultima versione di sul nella 4.5 ci permette direttamente di fare appunto questa questo questa connessione da proxy con eventualmente php fpm dopodiché possiamo naturalmente webcrawler è uno dei grandi classici per per utilizzare questo sistema in realtà poi ci puoi fare un sacco di cose cioè il limite alto è la fantasia infatti c'è gente che ci ha fatto anche i server di world of warcraft e sia il server di autenticazione che il server delle mappe quindi ci puoi fare veramente tante cose e nei case study ce ne sono diversi che appunto utilizzano suol come back end per applicazioni proprio di gaming bene guardiamo un po sotto il cofano cominciamo proviamo da a guardare un primo un primo esempio di che cosa ci possiamo fare creiamoci un server http server http creiamo il nostro news wall http server gli diciamo su quale su quale indirizzi p vogliamo fare il binding e su quale porta dopodiché andiamo ad attaccarci un evento questo evento è request quindi ogni volta che un client si attacca al fa una richiesta al nostro server il nostro server risponderà con questo pezzo di codice con questa callback particolare qui molto semplicemente settiamo l'header e diciamo che sarà un text plain e poi rispondiamo un fantastico hello world non possiamo dobbiamo lanciarlo e quindi con http start il nostro server partirà come lo lanciamo php nome del file php e basta questo essendo un server non uscirà direttamente quindi se io lancio questo questo comando il server continuerà a girare e quindi non ritornerà niente sul non ritornerà il prompt della shell ma sarà appunto appesa la shell come collable quindi quello che posso mettere dopo nella nella riga 11 in questo caso cioè è la stessa cosa della della slide precedente questa però nella riga 11 invece di mettere una colba una una collable una lambda function ho messo un'altra un'altra tipologia di di invocazione che il nostro amico php ci permette di fare per esempio in questo caso un un oggetto che ha un il metodo invoke vediamo gli passeremo la request e la response che sono i nostri due parametri che vengono passati che sono hanno sono in realtà tipizzati e sono request e response di swall http questo è identico a quello della slide precedente come del resto lo è anche questo un altro un altro modo sempre con parentesi graffe scusate parentesi quadre con oggetto e il metodo che deve essere invocato ce ne sono anche altri ma sono quelli classici di php vediamo questo server come come viene mappato come lavora come lavora sotto allora e swall quando parte come server non crea non rimane un solo processo ma vengono creati tanti processi che interagiscono con le varie richieste che vengono fatte al server allora il naturalmente prima viene creato il processo master questo processo master crea a sua volta dei thread reactor che hanno il compito di gestire è l'input output della rete ovvero le richieste vengono intercettate dai reactor che gestiscono solamente questa parte quindi prendono la richiesta dalla rete la impacchettono e quando ci hanno il dato vengono spediti viene ceduto il controllo ai worker il manager che sta nel mezzo è solo un processo che crea e distrugge i worker e i task worker quindi la nostra applicazione la nostra business logic non viene toccata dal manager ma neanche dal reactor entra dal reactor e una volta impacchettata la richiesta viene passata al worker il worker è quello che esegue esattamente veramente la nostra business logic quindi fa quello che deve fare dopodiché rimanda la response alla reactor che ha il compito di spedirla fuori nel caso in cui ci siano delle richieste bloccanti e quindi non so ci diamo il database o comunque alla rete o c'è comunque del codice che può essere bloccante vengono creati anche dei task worker quindi task worker il worker manda la lavorazione al task worker che esegue l'operazione e poi torna indietro il giro task worker worker reactor qui vediamo con il ps quindi il nostro htop i processi che vengono creati in particolare qui i nomi non sono proprio questi perché perché l'esempio che ha generato questo tipo di tri ha rinominato i nomi dei processi perché si può fare quindi quando viene c'è l'evento on worker create e per esempio on create manager questi possono, si può lanciare un'istruzione per dire, una funzione per dirgli rinomina il processo, il nome del processo in questo caso, in questo modo, quando facciamo un top, comunque un top, un ps per vedere i nostri processi li possiamo vedere con i nomi che gli abbiamo dato in questo caso vediamo che il primo, il pid 8, quello il dual server in bianco è il nostro master poi in verde abbiamo i 4 reactor che normalmente se non erro sono presi dal numero delle CPU che ci sono nella macchina ma comunque possono essere gestiti come i worker con la configurazione poi abbiamo il usual manager chiaro in bianco e poi abbiamo sotto i 4 usual worker dimonize, come facciamo a staccare il nostro server dalla console? sempre che vogliamo farlo, perché? perché per esempio se usiamo docker non ci serve perché con docker lanciamo il nostro processo zero che è il nostro server e quindi è perfetto così, se muore sappiamo cosa fare nel caso in cui però abbiamo degli altri sistemi e vogliamo usare per esempio systemd per tenere su il nostro e gestire i nostri servizi possiamo usare questa configurazione che è l'unica cosa difficile effettivamente scriverlo bene daemonize a true e con questo già fatto il nostro server da appeso alla console diventa un demon una cosa carina è che i log che normalmente vengono messi nello standard output possiamo comunque redirigerli invece dove vogliamo noi e quindi dargli una configurazione per cui possiamo buttare appunto i log dove vogliamo nella riga 3 c'è questa istruzione set che è adesso utilizzata nell'http server in realtà è per tutti i tipi di server di usual ed è la configurazione vera e propria quindi a set gli passiamo un array di configurazione mi sembra che ce ne siano una cosa tipo 80 configurazioni differenti perché se effettivamente ci pensiamo è un po' come configurare nginx per dire quindi il numero di configurazioni è comunque alto e ci possono configurare veramente tante cose come una serie molto alta di timeout il numero di worker il come vedremo tls eccetera 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 quindi tantissime cose e semplicemente abbiamo questo set che dobbiamo configurare che dobbiamo utilizzare prima di lanciare il server e lanciando questa volta il comando lo stesso quindi invece di rimanere appeso avremo il prompt del comando come facciamo a fare https come dicevo prima out of the box semplicemente configuro nella nostra set i certificati i certificati, le chiavi e posso dargli quali cipher qual è l'ordinamento per cui quali cipher prende per prima eccetera eccetera così semplicemente con quattro righe di configurazione da http sono passato ad https e questo è abbiamo fatto un server che risponde https senza aver bisogno di altri strumenti nel mezzo solamente con php server questo è il server generico server generico cambiano gli hook quindi cambiano gli eventi ai quali ci possiamo collegare ma in sostanza è la stessa cosa che abbiamo visto per gli altri da vedere che il server è appunto quello generico nel quarto parametro possiamo passare che tipologia di server è tcp, vdp, ipv4, ipv6, aggiungere la possibilità di avere appunto tls eccetera eccetera una cosa bella che non ho detto prima nell'ultima versione si può usare udp con tls e quindi si possono in realtà fare anche server web rtc quindi out of the box pack installi pack installs all e ci puoi fare dei server web rtc non male non male stanno aggiungendo veramente tantissime feature e se chi è che deve fare i server potrebbe essere una cosa interessante da guardare web socket chi ha sempre usato web socket solo ed esclusivamente con node perché? perché funziona bene e adesso lo può usare anche con php e come continuo a ripetere senza installare nient'altro pack installs all abbiamo anche le web socket web socket con come prima tls eccetera eccetera cosa facciamo? facciamo abbiamo per esempio 4 hook start quando parte il server una volta sola parte il server viene chiamato look start open ogni volta che viene aperta una connessione per chi non conoscesse web socket web socket è un protocollo utilizzato e integrato e implementato nella maggior parte dei browser moderni e permette la connessione bidirezionale tra client e server persistente e quindi il client si collega in http al server e gli chiede di fare l'upgrade della connessione una volta stabilita la connessione dopo aver fatto una chiamata di end shake viene collegato il client con il server in maniera persistente e quindi ci si può scambiare il dato bidirezionale e il server può chiamare spedire direttamente i dati al server il server al client e la client al server il client al server e il server al client senza aver bisogno tutte le volte di creare una nuova connessione quindi dicevo start una volta una tantum open invece tutte le volte che il client si collega al server quindi quando viene aperto il tubo viene chiamata la open e quindi qui ci possiamo fare tante cose tra le quali memorizzarci il fatto che qualcuno sia collegato message message tutte le volte che il client spedisce qualcosa al server viene invocata questa callable in particolare viene passato il server stesso e il frame il frame è il pacchetto di dati che dal client arriva al server e cosa c'è dentro questo pacchetto? in particolare c'è il file descriptor e quindi il descrittore della socket sul quale scrivere e in più ci sono anche i dati quindi il pacchetto vero e proprio che viene spedito dal client al server in questo caso c'è un esempio di come in riga 17 di come il server spedisca indietro con la push spedisca indietro un pacchetto spedisce a chi? al client che ha appena spedito il pacchetto al server quindi framefd il file descriptor e il pacchetto che viene spedito indietro al client è il JSON encode di un array hello con il time in più c'è un altro fondamentale che è il close che ci serve appunto per pulire il tutto quando il client se ne va c'è anche l'end shake che viene usato veramente poco perché normalmente l'end shake classico funziona nel 99% dei casi se qualcuno deve farci qualcosa delle esigenze molto molto particolari può addirittura arrivare alla parte di un shake e quindi attaccarsi anche a quell'evento PHP FPM client il client per collegarci con FastCGI è come uno dei tanti client assomiglia alla parte server e quindi c'è sempre il binding dove voglio collegarmi e la porta alla quale voglio collegarmi qui abbiamo un esempio di una request quindi creiamo una request a un file in particolare con quale metodo post con quale body un bellissimo array con il nostro chi è? Zool e poi facciamo la echo mandiamo in esecuzione la nostra richiesta e poi stampiamo il risultato questo è appunto il client che possiamo utilizzare per collegarci con PHP FPM se abbiamo delle esigenze particolari possiamo usare addirittura un proxy e quindi prendere la richiesta e passarla direttamente al nostro PHP FPM perché dovremmo aver bisogno di una cosa di questo tipo? me lo sono chiesto e ho visto alcuni esempi che parlavano di Wordpress sappiamo bene che non possiamo per scrivere applicazioni Zool bisogna avere in testa alcuni concetti che quindi non possiamo portare così come sono delle applicazioni attuali in Zool non funzionerebbero per una serie di vari motivi quindi se Wordpress funziona così com'è riscriverlo sarebbe uno sforzo enorme e probabilmente non avrebbe così tanti risultati quindi cosa posso fare? posso utilizzare la mia applicazione che funziona così in compi HP FPM però per esempio posso wrapparla con un qualcos'altro quindi mi risponde Zool Zool fa la richiesta a Wordpress Wordpress risponde a noi dopodiché possiamo modellare questa richiesta Wordpress o qualsiasi altra cosa per esempio abbiamo del codice legacy che espone API API sono sempre state fatte per uso interno metterle mani a quell'API non si può fare per una serie di vari motivi tra cui è andato in pensione chi è che l'ha scritta e nessuno perché non è bastato coraggioso riesce a metterci le mani quindi cosa si fa? si potrebbe wrappare il tutto con delle chiamate di questo tipo e quindi fare aggiungere un middleware a queste applicazioni quindi non so fare l'autenticazione prima chiamare l'API e poi restituire eventualmente il dato per esempio timer spero di non aver ucciso nessuno con la T timer dicevamo fa tick da millisecondo ok carino ci puoi fare dei giochi e riempire la console di tanto iconcine colorate e oltre a questo ci possiamo fare dello scheduling interessante oppure dei bot oppure tante tante altre cose in questo caso esempio di timer il tick stiamo dicendo as well di tick ogni 100 millisecondi quindi continuerà a emettere evento e quindi a chiamare la callable di riga da 1 a 3 questa questa funzione verrà chiamata ogni decimo di secondo ok continuerà a etichettare after invece di riga 5 dice da questo momento devono passare 500 millisecondi dopodiché mi chiami una volta sola e la funzione di cui sotto in questo caso cosa facciamo prendiamo anche l'id del del fratellino precedente e lo cancelliamo quindi facciamo il clear dell'id quindi diciamo basta etichettata abbastanza 5 volte è sufficiente e poi chiudiamo dopo altri 500 mille perché l'after naturalmente è after mille ma quello sopra sono già passati 500 quindi dopo un secondo dall'inizio del programma più o meno cosa succede? verifico se esiste ancora questo timer quindi se il timer che etichetta è stato distrutto o meno e poi dico tutto a posto e questo è quello che naturalmente ci aspettiamo imbrattare inutilmente la chat timer cosa possiamo fare? abbiamo detto after con il numero di millisecondi da questo momento a quando deve essere eseguito una volta tic continuo a ticchettare per ogni un tot millisecondi poi abbiamo exist per vedere se esiste ancora list ci dà la lista di tutti stat alcune statistiche info non ci crederete mai vi dà le informazioni su uno specifico timer incredibile clear e clear andiamo sulla parte cicciotta coroutine allora wikipedia ci dice che le coroutine sono componenti di programmazione che generalizzano le subroutine nei sistemi di multitasking non preemptive chiaro no preemptive detto anche cooperativo per gli amici permettendo diversi punti in cui sospendere e riprendere l'esecuzione del programma quindi abbiamo in sostanza cosa succede i sistemi di multitasking preemptive vengono vengono interrotti i programmi a intervalli regolari comunque c'è qualcuno che dice tu fermati lì tu fermati lì in qualsiasi sia il tuo stato ti salvo e poi ti faccio riprendere in quel posto lì il non preemptive o meglio il cooperativo detto anche per gli amici quello del del buon cittadino che tiene sempre pulito e aiuta gli altri cosa dice dice io invece di avere qualcuno che mi dice quando mi devo fermare e quando devo riprendere l'esecuzione del mio programma nella mia bella subroutine sono io che dico ragazzi guardate sto facendo una chiamata API lo sappiamo tutti che è lentissima quindi faccio la chiamata e mi metto in attesa fate voi quello che volete continuate a lavorare poi quando qualcuno si me lo vuole ridare il processore continuerò vediamo se è arrivata questa chiamata e quindi mi sospendo mi autosospendo e do il controllo a un altro pezzo del programma questo Swole lo fa con con thread in puro user mode quindi non andiamo a fare delle fork a sistema e quindi il tutto risulta molto più veloce sia nella creazione che nello switch tra un pezzo di subroutine e un altro e vantaggi per un amatore sono che possiamo scrivere del codice come se fosse sincrono in realtà vediamo vedremo che sotto abbiamo i vantaggi dell'input-output asincrono bene sempre nella nostra piccolissima libreria di Swole abbiamo un po' di client pronti per l'uso tra i quali come abbiamo già detto prima tcp, udp, http, http2 eccetera eccetera ma anche dei bellissimi redis mysql e postgres che possono essere utilizzati sono proprio client di Swole e poi anche naturalmente socket coroutine guardiamo un pochettino queste coroutine come funzionano e che cosa servono come possiamo utilizzarle per funzionare le coroutine hanno bisogno di un contesto questo può essere creato con corun che è un alias di coroutine run mi sembra ma non ne sono sicuro comunque è un alias di Swole corun e poi ci passo una callable all'interno di questa callable ho il contesto del coroutine quindi posso usare tranquillamente il mio coroutine se sono in ambiente server in sto facendo ho utilizzato un server http per esempio di Swole o un altro sia sia altro server di Swole e sono nelle varie on request on close on eccetera eccetera quindi nei vari hook posso utilizzare sono già in un contesto in cui posso utilizzare le coroutine però per esempio sto facendo uno script php che deve girare così io voglio fare esattamente queste 14 righe di codice quindi minore punto di domanda php copia e incolla di questo e lo lancio da riga di programma creo devo creare un contesto per utilizzare le coroutine coroutine sono quelle di riga 2 e riga 8 quindi si chiamano così ma anche questo è un alias di Swole go callable cosa facciamo? due bei pezzi di codice identico nel primo creo un client http e mi collego a bing sulla 443 true vuol dire usa ssl e poi faccio client get della root quindi voglio prendere l'ompase di bing quando ho finito faccio stampo quale è l'host quindi www.bing.com e chiudo il client siccome io voglio fare la stessa cosa sia per l'ompase di bing ma anche per l'ompase di google se io uso usassi dei client sincroni questa cosa avverrebbe dall'alto al basso con tutte le attese del caso quali sono le attese? quando io faccio in riga 4 la get della root dell'home page cosa succede? il mio client deve fare una chiamata https a bing deve aspettare che bing risponda leggere la chiamata e poi avere la get può lasciare l'esecuzione alla riga successiva quindi il tempo che impiega la get anche se decine o diciamo centinaia di millisecondi comunque è un tempo in cui non stiamo facendo assolutamente niente quel tempo noi lo possiamo sfruttare per far qualche cosa per fare la stessa cosa per google e quindi cosa faccio? quando siccome sono in una coroutine sono dentro una funzione go quando arrivo a get client get di riga 4 lui da solo dice io sto andando in uno stato di attesa quindi cerco se c'è qualcun altro che può eseguire dell'altro codice quindi in questo caso esco dalla funzione go guardo cosa c'è dopo guarda caso c'è un'altra funzione go in riga 8 e quindi comincio a eseguirla faccio la riga 9 comincio a creare il mio client per google faccio la riga 10 arrivato alla riga 10 cosa succede? succede che sono nella stessa situazione oh io devo attendere google non mi risponde subito ci metto centinaia di mille di attesa c'è qualcun altro che deve far qualcosa esce dalla funzione go guarda dopo è finito quindi dice no qua non c'è più niente guardiamo se c'è qualcosa qualcuno di appeso e vediamo che c'è il nostro client di riga 4 allora se bing è più veloce di google restituirà prima il client di bing quindi si sbloccherà la get si sbloccherà la get prenderà il suo contenuto stamperà l'host chiuderà client e poi si rimetterà in attesa della get di riga 10 ok finita la get di riga 10 stamperà l'host chiuderà client e a questo punto nel contesto delle coroutine nel contesto di coroutine aperto in riga 1 con coran non c'è nient'altro di appeso e quindi il programma termina io ho lanciato alcune decine di volte questo script ma google arriva sempre primo sempre primo vero? un altro piccolo esempio gioco gioco abbiamo delle coroutine annidate quindi creiamo sempre il nostro context con coran poi abbiamo una funzione una coroutine go con una eco 5 uno sleep di 3 secondi e un un'altra coroutine che stampa eco 3 e dormi ancora poi stampa una 2 stampa una eco 1 e fuori abbiamo eco 0 una sleep e una eco 6 guardate attentamente il codice prendete una penna e provate a scrivere la sequenza avete 5 secondi la sequenza giusta è 5 0 6 3 1 2 potete giocare avendo all'otto ma adesso ve la scrivo e iniziamo entriamo in go ria 2 quindi stampiamo 5 a questo punto ci mettiamo a dormire per 3 secondi qui naturalmente è una sleep però potrebbe essere una qualsiasi altra operazione bloccante come abbiamo detto un client http una chiamata mysql potrebbe essere qualsiasi altra cosa dormiamo 3 secondi quindi a questo punto il la nostra funzione esce dal la nostra coroutine viene sospesa in quel punto uscendo dal quel punto la go finisce in riga 11 quindi verrà stampato lo 0 poi dorme ancora un secondo quando dorme vuol dire lascia il controllo a qualcun altro ok a chi lascia il controllo ci sono punti appesi sì quello di riga 4 ma riga 4 ci mette molto più tempo 3 secondi invece che 1 di riga 13 quindi riga 13 esegue il suo slip di un secondo stampa 6 poi in teoria il contesto finisce il contesto finisce però si dice oh porca paletta io sono ancora la gente appesa di sopra e quindi ritorna e ritorna riga 4 ritorna riga 4 e dice finisce gli altri due secondi che gli rimangono entra in un'altra coroutine e quindi stampa al 3 slip di 2 esce da quella coroutine quindi da riga 5 a riga 9 esce da quella coroutine e va stampa al bel 1 di riga 10 a questo punto è finita è finita l'esecuzione di questa function e di questa coroutine esce però la funzione dice ma io sono ancora appeso quella di riga 5 va bene allora aspettiamo che tu finisca la 7 finisce fra gli altri due secondi stampa 2 e poi tutti hanno finito il loro lavoro e il programma termina ok ma come faccio io se ho due coroutine a farle parlare tra di loro copiamo voglio dire ispiriamoci dai migliori ok Go lo fa già ha dei bellissimi channel perché non usarli anche noi infatti li usiamo anche noi come li usiamo basta quindi creiamo chan che sono i nostri channel prende come intero come unico parametro channel il numero di messaggi che possiamo scambiarci all'interno di questo canale dopodiché si riempie ed è bloccante può essere bloccante o meno comunque diciamo la maggior parte delle volte lo usiamo in maniera bloccante perché ci serve per sincronizzare magari più coroutine in questo caso classico esempio producer consumer abbiamo la prima coroutine che fa un loop infinito e butta dentro il prende il tempo attuale e poi nella riga 8 prende il canale il channel e ci fa una push di un dato quindi noi nel channel ci possiamo buttare ci possiamo mettere dentro un dato quello che vogliamo perché è un contenitore che non ha una struttura particolare quindi io ci posso mettere dentro tutto quello che voglio tutto quello che voglio con dei limiti di memoria però quindi un limite di byte che però mi sembra sia configurabile e poi in questo caso facciamo la sleep di uno quindi dormiamo un secondo e dopodiché riprendiamo per il nostro loop infinito di riga 6 il consumer come funzionerà mai semplicemente un'altra bella coroutine che usa sempre il nostro channel condiviso channel che è stato definito precedentemente importante e sempre con un bellissimo loop infinito perché a noi piace così vogliamo vedere da riga di comando il passare del tempo prendiamo il dal canale facciamo pop e prendiamo il dato che c'è nel canale e poi ce lo stampiamo perché lo vogliamo vedere da riga di comando ma bello è che il pop è bloccante ok quindi se non c'è niente dentro il canale io non posso poppare fuori niente quindi farò starò in attesa starò in attesa che il producer mi push qualcosa in questo caso nel producer ho lo slip ma nel consumer no perché è intrinseco nella wait che farà il pop ok e quindi questo bellissimo esempio ci permette di stampare in maniera assolutamente variopinta il nostro timer su console utilizzando i channel se vogliamo usare qualcosa di più strutturato sia nei server che appunto nelle coroutine possiamo utilizzare le table di this wall e in particolare le table sono un key value store sono dei key value store e a formati tabella come vediamo sono performance naturalmente qui sono come tutto il resto di this wall è tra le prime cose e quindi possiamo fare più di 2 milioni di read write al secondo e possiamo appunto condividere queste variabili queste table su più thread processi e possiamo memorizzare anche dei counters nella nostra applicazione anche se si dice così in realtà c'è un altro costrutto che mi pare si chiama atomic che si può utilizzare per appunto usare il counter incrementare decrementare a livello di processore quindi veramente al più basso livello possibile quindi io utilizzerei quello per il counter esempietto esempietto delle table table small table 1024 da quello che sono riuscito a capire perché la documentazione su questo non mi ha non mi ha aiutato molto il numero di che c'è come unico parametro del costruttore della table sono il numero di righe che puoi avere all'interno di questa table quindi lui è performante è super veloce è multi-thread thread compliance però deve essere fisso quindi lui poi non ha bisogno di sperare io ti devo allocare questo spazio più o meno e così siamo tutti tranquilli che non succedano grosse complicazioni come funziona? facciamo la nostra table table che rimane naturalmente in memoria e poi ci andiamo ad aggiungere delle colonne come se fosse una una table di un qualsiasi database quindi in questo caso un id con un tipo un tipo intero 4 byte sembra che sia 1, 2, 4, 8 byte e un nome stringa 64 byte e poi creiamo questa nostra tabella in questo momento e Swole si prenderà carico di gestire tutto quello che occorre per poter leggere e scrivere questa hash map per noi posso utilizzare o il metodo set get come qui per esempio in riga 6 facciamo una set di chiave a con valore il record come secondo parametro quindi col proprio id name eccetera oppure e usare la get come in riga 10 quindi table get a prendo tutto il record di a oppure in riga 11 in table get b name prendo solo il campo name del record con l'identificativo b oppure siccome mi sembra che implementi l'array access si può utilizzare anche direttamente con le quadre e esattamente come un un array è iterabile quindi possiamo iterarlo possiamo cancellare dati all'interno e possiamo anche countable e quindi possiamo sapere quanta roba c'è dentro la tabella bellissimo questo key value store super performante out of the box con installazione di passiamo a process siamo quasi giunti alla fine process è un un rimpiazzo del dpctn pcntl che è l'estensione di default di php per la gestione dei processi però ha molte migliorie rispetto a pcntl quando noi facciamo una fork pcntl fork quindi una fork con pcntl abbiamo un programma che è speculare quindi abbiamo il programma padre il processo padre che viene forcato e abbiamo due copie identiche dello stesso processo l'unica differenza tra i due è il valore restituito dalla pcntl fork che in caso del del padre il processo padre è l'id del processo figlio nel processo figlio è zero quindi per gestire processi con il fork c'è un po' di lavoro da fare quindi devo dire sono il padre sono il figlio devo aspettare non devo aspettare devo aspettare tutti i figli ma chi sono il figlio cosa devo fare cioè è abbastanza oneroso da fare con pcntl poi non abbiamo la possibilità di far colloquiare padre con figlio perché perché sono due processi a sé e PHP non ci permette di avere delle soluzioni immediate da utilizzare per scambiarsi dati tra i processi process di SWALL viene incontro ai programmatori che utilizzano i vari processi e quindi queste cose ce le semplifica di molto in particolare qui posso fare un new SWALL process metto sempre la nostra callback callable scusate quindi quello che viene eseguito è quello è quello il figlio quindi crea un processo ed è quello il codice del figlio quindi non è che devo fare tante cose andare a vedere sono io se sono tuo padre no quella lì è quella del figlio ok quindi fa il processo e viene eseguita quella cosa lì altra cosa importante è che tra padre e figlio si apre una pipe quindi io ho un canale di comunicazione diretto tra padre e figlio quindi posso scrivere con process write direttamente dal processo figlio al processo padre e viceversa altro esempio che anche dei tanti esempi che trovate in rete il metodo di la funzione di riga 3 3-8 è il processo che verrà eseguito ok quindi i vari figli i vari worker e dorme un pochino a seconda di quanto è stanco 5-10 secondi dopodiché scrive al padre sono tuo figlio di PID ID me e poi stampa sull'op della console il PID se stesso cosa facciamo tra riga 10 e 15 sponiamo un po' di processi quindi facciamo new process di process come stringa sappiamo che PHP ci dice ah guarda c'è una funzione con questo stesso nome boffo probabilmente vorrà chiamare questa e quindi fa abeccare proprio quella riga 12 facciamo partire il processo ci prendiamo l'ID e ce lo serviamo in un array di processi dopodiché eseguiamo il nostro fantastico for each e quindi iteriamo tutti i nostri worker e cosa facciamo aggiungiamo un evento di swall aggiungiamo un evento su il pipe quindi stiamo dicendo a swall attento per favore se succede qualcosa su questo tubo qualcuno scrive qualcosa mi raccomando svegliami e in particolare lancia incredibilmente una callable di 20 a 23 ok quindi noi nel for each non stiamo in realtà eseguendo del codice che va a interagire con i nostri worker stiamo semplicemente aggiungendo degli eventi di swall sul pipe di processo dei sulla pipe dei processi e quindi ci andiamo a stare in ascolto se succede qualcosa sulle pipe se i nostri figli stanno scrivendo qualcosa finito finito questo quindi ho aggiunto degli eventi sono riga 25 normalmente uno direte vabbè è finito il programma esco no tu hai messo degli eventi adesso stai qui e ascolti e finché ci sono gli eventi stai qui infatti per fortuna che il nostro puppy swall ci sta ci ha tenuto lì perché perché dopo tra 5-10 secondi cominciano a svegliarsi i figli e a scrivere sulla pipe quindi swall dice sta arrivando roba sulla pipe del processo 1 viene eseguito il codice da riga 20 a riga 23 incredibilmente leggiamo quello che ha da dire lo scriviamo sulla console e poi rimaniamo ancora in attesa quando sono finiti tutti i figli rimaniamo ancora in attesa perché non c'è scritto da nessuna parte che i figli hanno finito di lavorare come fa il programma a sapere come fa a sapere Swall che i figli non devono fare più niente non lo sa e io infatti ci ho perso un sacco la testa perché perché mancava questa semplicissima riga trovate le differenze riga 23 che appare scompare portandomi via ed è una volta che ho ricevuto il dato in questo caso ho fatto io cancello l'evento sul pipe sulla pipe in maniera tale quando sono ho tolto tutti gli eventi quindi ho fatto in sostanza ho ricevuto un solo messaggio dal mio figlio esco questo giusto per far uscire il processo altrimenti rimaneva lì perché il processo magari poteva fare tante tante altre cose il nostro è semplicissimo scrive una sola cosa e poi basta arriviamo alla parte che tanti di voi aspettavate e quindi performance e chiudiamo la serata questi saranno i nostri esempi della serata mi dispiace per chi pensava da qualcos'altro ma abbiamo fatto un bellissimo hello world per per vedere quanto spinge nginx e php fpm questo è il codice che verrà eseguito questo è il codice di node.js quindi un classico http server con la response più piccola del mondo si assomiglia un pochettino dopo di che lanciamo naturalmente con node me swall quello che abbiamo visto all'inizio un http server microscopico il più piccolo possibile e lo lanciamo sempre con il massico php hello world ho iniziato a fare i test con joker e quindi questo è quello che ho lanciato vrk è un sistema per fare benchmarking e in particolare t6 dice utilizza 6 thread ogni thread sparaci per favore 400 client e cerca di tenere su il sveglio il mio servizio per 10 secondi quindi per 10 secondi lui martella più possibile con 6 thread il mio servizio nginx e php fpm ha raggiunto dei numeri che sono imbarazzanti e probabilmente non so è docker per me non so che cosa però abbiamo la latenza media di 448 milli e in totale è riuscito a servire 435 435 richieste a seconda node node si è decisamente posizionato meglio con 71 milli di risposta e 5.000 quasi 300 risposte al secondo sempre con lo stesso vrk quindi 6 thread 410 secondi e il nostro swall questo che php si è beccato 435 si è beccato con 12.000 richieste al secondo 12.000 richieste al secondo con 21.000 di latenza contro il 71 di di node questi li ho fatti tutti li ho lanciati svariate volte ho preso più o meno quello medio ma diciamo che sono tutti allineati li ho lanciati diverse volte alcune decine di volte ma sono più o meno tutti allineati i numeri erano quelli mi son chiesto ma possiamo fare di meglio è il mio docker che fa veramente schifo e quindi ho provato a farlo senza poker node solo node e swore node 38.000 richieste con 6,44 mili di latenza una schezza 38.000 richieste al secondo è un hello world va bene però porca paletta 38.000 richieste al secondo swore 2.000 secondi 110 110 mila richieste al secondo allora il grafico è imbarazzante imbarazzante per nginx e php fpm prendete è invisibile cioè io non so devo fare qualcosa riguardo i miei benchmark che lo prometto mi faccio un appunto perché 435 ma neanche non lo so che cosa è successo 5000 diciamo per sempre per docker node.js i server sempre con locker e mentre swore 12.000 può arrivare appunto a nudo a numeri veramente veramente impressionanti sapevo che questo era un benchmark un po' del cavolo però era un benchmark che volevo fare sulla mia macchina al volo dopodiché sono andato a vedere chi è che i benchmark li fa di professione e ho trovato Tech & Power che ogni sei mesi un anno l'ultimo effettivamente di un anno fa perché è di circa luglio del 2019 e fa ha preso praticamente un 350 380 framework diversi scritti in una miriade di linguaggi e poi ha fatto una batteria di test una batteria di test che sono o solo per serializzazione o solo per accesso come l'Ello World oppure questo qui questo qui è un test fortunes che praticamente è un un accesso una richiesta a una pagina dove l'applicativo non sa quanti record gli verranno chiesti deve fare una una query sul database prendere i dati e elaborarli mi sembra fare il sort dei dati dopodiché fare il serialize e buttarli fuori il più performante è questo Actix Core scritto in Rust e abbiamo il Go i primi in Go che comunque sono piuttosto in alto però vediamo che Fast HTTP che è uno con Postgres che penso che sia uno dei più noti per Go e comunque è 46% rispetto al al principale con 324.000 richieste al secondo Swole è lì attaccato cioè è a 300.000 richieste al secondo quindi test fortune se vedete nella colonna lang c'è il linguaggio e nella colonna db c'è quale database è stato utilizzato quindi Swole con PHP con MySQL ha raggiunto 300.000 richieste al secondo con quella macchina scritta lì un DLR 440 Xeon Gold non male pensando che PHP plane qui dico effettivamente allora c'è problemi sulla mia macchina ha 130.000 richieste al secondo node il primo node è subito sotto pensiamoci ma questo coso nonostante tutto è production ready voi ce lo caccereste in produzione o in Cina ci sono signori molto grossi che lo stanno utilizzando tuttora in produzione quindi lo metteresse in produzione caspita lo mette Baidu Tencent JD è un e-commerce a livello globale 2345 non è un errore è una compagnia telefonica cinese e poi dicevamo giochi quindi RPG con back-end con Swole quindi questi sono scusate le traduzioni ma l'ho tradotto dal cinese e il mio cinese è un po' roggenito che si trovano sul wiki di Swole e questi sono quelli che appunto hanno detto sì noi in queste aziende lo utilizziamo in produzione io lo userei ci sono dei contro hai voglia a parte lo switch di di mentalità che è un po' diverso poi ci sono delle degli ambiti un po' particolari forse non è proprio tutto tutto però anche solo come web API ci sta però come contro la documentazione ufficiale dell'API è un po' poca approfondita ad esempio nella table la table suppongo che il primo valore c'è scritto table size però e sarà la dimensione in righe la dimensione in byte la dimensione in birre non c'è scritto e quindi è un po' scarna è un po' scarna il secondo parametro della table è un parametro che si chiama conflict proportion una cosa così il valore 0.2 che cavolo serve non si sa quindi sì ci sono esempi sul sito però la documentazione ufficiale è un po' un po' scala mancanza di esempi di applicazioni complesse è da pochissimo in giro e quindi non si trova tantissimo di grandi applicazioni si trovano esempi che sono medio piccoli e quindi anche forse un po' difficile far credere al prodotto far credere ai nostri clienti che è comunque un prodotto valido e stragrande maggioranza dei documenti che sta di video è in cinese quindi google translate installato obbligatoriamente e come community siamo un po' piccolini perché il workspace di Slack di Swole al quale mi sono iscritto contano circa 300 membri per confronto il group ne ha 1500 quindi è tutto da è tutto da crescere deve crescere un po' tutto ultima cosa link per il vostro diletto Swole andate su Koyuk per avere la documentazione in inglese su quello cinese andate su quello cinese perché ci sono dei documenti interessanti da tradurre la presentazione ho preso alcuni delle slide da questo da questo link fatto da Bruce Do Bruce Do che è uno dei maintainer della PECL del progetto Swole e quindi verrà anche al PHP Day quindi a settembre parlerà in maniera esaustiva della parte di corotina della parte soprattutto che c'è prima che io naturalmente ho saltato a pie pari perché tanto c'è lui che la spiegherà e poi vi lascio anche Coran Coran Io che è un progetto sempre del progetto Swole per far lanciare le coroutine a modi lambda quindi probabilmente ancora non è non è fuori ma poi potete lasciare le mail per se siete interessati probabilmente creeranno un'infrastruttura o un framework o qualcosa o il layer da mettere su AWS lambda per far girare direttamente i pezzettini quindi le nostre coroutine come lambda quindi molto interessante ultimo link awesome soul è una raccolta di link alcuni un po' datati se devo dire il vero però c'è potete avere un'idea di quello che si può fare c'è molta documentazione tantissimi esempi tantissimi esempi anche sul sito di github di Swole e con questo vi ringrazio tanto per aver ascoltato e spero che sia stato utile Nicole eccomi qua allora Manuel grazie mille direi che possiamo stoppare la registrazione e